sorelle juventini e sorelle juventine la coppa italia viene sistematicamente diciamo snobbata perché spesso vengono messe le seconde linee dalle squadre blasonate la juve l'inter la roma il minan napoli la lazio l'atalanta però quando poi si arriva al rush finale ovvero si arriva alla semifinale quasi sempre negli ultimi anni con la nuova formula che la squadra diciamo più blasonata gioca quasi sempre in casa e quindi più facile che elimini la squadra che viene da fuori che è più scarsa arrivano ad esserci delle semifinali molto interessanti l'anno scorso abbiamo affrontato il minan in una doppia tensione andata e ritorno quest'anno affronteremo l'inter mentre nel frattempo ci saranno dall'altra parte napoli e atalanta per cui quattro delle squadre più forti d'italia si contenderanno alla vittoria della coppa italia ora domani sera al meazza la juventus è chiamata da un doppio compito quello di farsi perdonare la pessima partita disputata qualche giorno fa proprio al meazza contro l'inter dove abbiamo perso meritatamente con un secco 2 a 0 con una prestazione molto valida dell'inter è veramente inguardabile da parte nostra e ovviamente il compito di cercare di arrivare alla finale di coppa italia perché se pirlo col debutto sulla panchina della juventus dovesse vincere come ha già vinto la supercoppa italiana e arrivare in finale di coppa italia con la chance piuttosto alta a mio modo di vedere di vincerla sarebbe già tanta roba per un neo allenatore un neo patentato è come se un neo patentato prendesse la ferrari di vettel arrivasse nei primi tre sul podio del campionato mondiale dietro da emilton magari non so a qualsiasi altro vogliate voi per cui non va assolutamente snobbata io che non sono mai stato un estimatore della coppa italia lo dico senza nessuna vergogna non me ne può fregare di meno di vincerla o perderla ma proprio perché abbiamo la fortuna di incontrare una nemica storica a livello sportivo come l'inter ci tengo tantissimo che la juventus domani sera faccia una prestazione di livello perché poi come ben sapete ci sarà ritorno a torino e portare a casa una vittoria o un pareggio a milano sarebbe veramente tanta 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 roba perché poi a torino ai due risultati su tre per poter arrivare a disputare poi in futuro la finale di coppa italia immagino che capirlo domani sera farà almeno possibile turnover betancourt è squalificato con la roma per cui sicuramente sarà in campo mi immagino gigi buffoni in porta perché mi sembra giusto onorare il suo finale di carriera facendogli disputare la coppa italia augurandoci che non arrivino dei tiri troppo repentini perché purtroppo buffon non ha più quell'esplosività di un tempo e sarebbe veramente un peccato a non vincere o non arrivare in finale per un errore di un portiere che insomma ormai ha un'età come si suol dire ma comunque non mettiamo il carro davanti ai buoi speriamo che gigione sia poco impegnato da dalla squadra milanese e ovviamente staremo a vedere se dell'X sarà della partita se farà riposare uno fra bonucci e chiellini se farà giocare dei mirali insomma ci sono tanti incogniti di formazione perché giustamente adesso la juventus ha l'esclusione di di bala quasi tutta la rosa a disposizione tra l'altro di bala purtroppo non so se lo sapete i tempi di recupero si sono allungati e quindi per molto tempo dovremmo farlo a meno di lui o perlomeno almeno fino alla metà di febbraio di bala non dovrebbe vedere il campo viste le condizioni attuali fisiche comunque tornando a noi domani sera una bellissima semifinale di coppa italia che vale una partita di campionato questo è importante perché veramente nel mese di dicembre ci sono state partite che non dico che facevano dormire o che annoiavano ma insomma quasi è quasi quindi adesso finalmente abbiamo incominciato con una bella partita sabato a genova con la sandoria adesso abbiamo l'inter poi sabato si aspetta sempre alle 18 la roma torino poi torneremo a giocare allo stadio sempre martedì con l'inter poi andremo a napoli a san paolo o al diego maradona come preferite insomma e poi arriverà il porto insomma piatto ricco micifico e l'importante è che domani sera la nostra juve contro l'inter non faccia una partita scarsa perché ci hanno già come si dice pettinato una volta e sarebbe veramente voluto che lo facessero per una seconda volta perché non vorremmo non vorremmo mica ringalluzzire i prescritti e i cartonati eh no una volta ogni cinque anni basta e avanza adesso per altri cinque anni loro non devono mai più battersi questo è il moto con cui io voglio affrontare inter juventus di domani sera al meazza in coppa italia semifinale d'andata signori io vi auguro una buona giornata vi do appuntamento alle 18 con calcio mercato live dove vivremo insieme il rush finale di questo calcio mercato poverissimo per non dire per non dire inesistente e chissà che non succeda qualche cosa proprio mentre saremo in diretta e mentre parleremo tra di noi amanti della vecchia signora fino alla fine forza juve forever and ever huve halles e trano di cr7 vamos a matar i prescritti ciao ciao